cari vergine belli affascinanti in apparenza tutti pasta di mandorle e panna montata poi però mercurio in quadratura vi fa reagire con gli sbotti di acido zitellico che spesso vi contraddistinguono e manda a carte 48 tutto il vostro bella pil che dimostrate nel lavoro e nei rapporti con gli altri cercate di mantenere la calma perché siete fra i segni più favoriti di tutto l'anno questa settimana mercoledì e giovedì sono forse le giornate in cui potreste avere un diavolo per bulbo pilifero quindi ancora una volta la raccomandazione a stare calmi l'amore va bene la fornicazione bisogna un po accontentarsi dai